Vacila la poltrona del sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini. Dopo le stare di fuoco fra dimissioni rassegnate e revocate, il panettone mangiato all'ultimo minuto, lo scoglio più grande per l'amministrazione comunale è quello delle elezioni regionali. Manca meno di una settimana a faridico appuntamento del 10 febbraio e già tornare a di crisi a Palazzo San Francesco. Dopo le dichiarazioni resere al consigliere comunale Fabio Pingue a un datigì sul punto di non ritorno da questa amministrazione, alla luce del nuovo quadro politico che si va delineando in maggioranza, anche Dimasciani sono pronti a staccare la sfina. Dall'11 febbraio potrebbero riprendere le trattative per mandare a casa la Casini e sciogliere in anticipo la consigliatura. Negli ultimi tempi è stato proprio il PD a mantenere in vita la Casini. Prima la commissione sui piani complessi risertata, poi il voto mancato sulla richiesta di sospensione del consiglio comunale sul CDA del Coggesa, anche se ad onor del vero non si registra il voto compatto di avanti sul Mona. Ma dal giorno dopo le elezioni i tre consiglieri di PD non sono disposti a mantenere in vita l'amministrazione comunale, alla luce anche delle ultime esternazioni di Pingue che ha lasciato intendere un possibile arrivederci dalla maggioranza. Se la stessa maggioranza vuole staccare la spina non capiamo perché noi dobbiamo mantenerla in vita, spiegano Dimasciani. Certo è che bisognerà capire se tutta la minoranza sarà compatta con le eventuali dimissioni in blocco. Per alleanza per sul Mona ad esempio il treno potrebbe essere già passato. Il dato praticamente certo è che sembra quasi impossibile ricucire lo strappo del crepo gruppo di avanti sul Mona, candidato al consiglio regionale e il sindaco Casini. Ieri il primo cittadino era in prima fila all'incontro elettorale di Marianna Scoccia. Dal dietro le quinte dell'hotel meeting è passata al primo piano delle ginestre, senza parlare, ma tanto è bastato per scatenare le prime reazioni. Pingue intanto torna a bomba sulle partecipate. In questa campagna stiamo vivendo un fenomeno inedito e anomalo, scrive il candidato di più Abruzzo. I vertici dei cosiddetti enti sovracomunali, istituzioni a totale capitale pubblico, che annoverano i comuni nella compagine sociale, sono sfacciatamente schierati a sostegno di un determinato candidato. Questo fa pensare, soprattutto con riferimento alla trasparenza, uno dei postulati dell'azione delle pubbliche amministrazioni. Faccio quindi un appello all'assessore Mariani a vigilare su questa vicenda, perché non trova ragione etica la speculazione elettorale fatta sul dramma delle necessità lavorative che tante famiglie e tanti ragazzi vivono nella nostra valle. Questo non è mai tollerabile e diventa assolutamente inaccettabile quando questo si impone a qualche capetto di società partecipate dal Comune. E voglio tendere la mia mano ai tanti che hanno ricevuto false promesse perché nello sconforto che viviamo. A voi va la mia più totale vicinanza a Chiosa Pingue senza usare mezzi termini. Si annuncia quindi un finale di campagne elettorali a Cardiopalma che potrebbe aprire le porte a una nuova crisi in quel di Palazzo San Francesco. Sei davvero arrivati al punto di non ritorno?